ehi pensi che abbia visto l'email? tu che ne dici? non credo se n'è andato appena è arrivato beh era importante molto importante serve per la sua presentazione meglio convertire il testo in un messaggio vocale e inviarlo al suo cellulare ok ma perché l'hai spedito anche a me? ti ho mandato la copia del messaggio che ho inviato al tuo nuovo migliore amico non cominciare adesso email urgente denominata richiesta di aggiornamento immediato non capisco perché ti devi arrabbiare così non sono affatto arrabbiata è che mi facilisce quando fai così invece si sei arrabbiata con me e non è la prima volta che succede una cosa non sarebbe ora di finirla ora mi parli di relazioni adesso capisco sai una cosa le persone si scaldano e parecchio quando ti parla delle loro sempatia ma sta vedendo come è arrivato controllatevi ciao ho ricevuto la mail sto riguardando la presentazione ora perfetto grazie marco come va ehi ma sentili allora c'è qualcosa come va ehi che cosa c'è di male nel salutare io mi meraviglio non c'è niente di male nel salutare ti credevo un quando i sistemi di comunicazione che utilizzi comunicano tra loro le cose funzionano molto meglio almeno per la maggior parte